Anche Nereto si inserisce nel contesto delle settimane ambientali di pulizia, le settimane europee di pulizia dell'ambiente, il 14 e 15, quindi questo weekend, c'è appunto un'iniziativa dedicata alla pulizia dell'ambiente a Nereto. Sì, Nereto aderisce al Clean Up Europe, è un progetto europeo di pulizia dell'ambiente, è un progetto sostanzialmente di educazione ambientale, far capire ai cittadini l'importanza dell'abbandono rifiuti e soprattutto quanti rifiuti intorno a noi troviamo per le strade, per i fossi, nei parchi. Questo partiamo il 14 a mattina con i ragazzi delle scuole, sia elementari che medie, proiettiamo anche dei documentari, dei film per far capire a questi ragazzi, poi in modo diciamo educativo quindi andiamo con i ragazzi nei parchi per spiegare e continuare. Il 15 invece è dedicato a tutti i cittadini di Nereto, tutti i cittadini di Nereto possono partecipare, verrà consegnato anche un kit per poter raccogliere quindi buste, guanti e tutto il materiale necessario, ci sarà anche la partecipazione e la collaborazione della Poliservice che ci darà assistenza. I cittadini di Nereto, previo diciamo anche prenotazione o comunque ai fini organizzativi è bene far sapere prima, ci sono le locandine sparse per il paese, delle email e anche i numeri di telefono dove potersi prenotare e decidere dove voler andare a pulire strade, ripeto, parchi, fossi e dove si vuole. Si può aderire anche a un altro progetto che abbiamo attivato già dall'anno scorso che è quello della Diamo una mano a Nereto, questi progetti sono di volontariato, sono progetti importanti per il paese, io spero che i cittadini capiscono la situazione e partecipano a questa giornata per Nereto, per tutti noi. 15 a mattina davanti al comune alle ore 9 ci si ritrova, poi si gestisce dove andare e si verrà dato anche del materiale in modo tale che tutti i cittadini sappiano dove andare e quindi anche dal punto di vista organizzativo una buona cosa è quello di vedersi prima alle ore 9, mi raccomando, davanti al comune per poi proseguire tutta la giornata dove si decide di andare. Quindi l'appuntamento è per domenica mattina? Domenica mattina i cittadini, sabato mattina invece un programma dedicato solo ai ragazzi, quindi gesteremo con l'istituto comprensivo.